Oh giovani amici di Facebook abbiamo un'altra super non dico esclusiva però comunque uno dei primissimi se non il primo non so esattamente comunque sicuramente tra i primissimi unboxing italiani del nuovo HTC Vive Pre che è diciamo la nuovissima versione dell'HTC Vive presentata al CES di Las Vegas lo scorso gennaio sarà a sentire HTC Vive molto simile ma non identico alla versione che verrà messa in vendita a partire dal prossimo aprile quindi ormai ci siamo però vogliamo insieme vedere come arriva o perlomeno come arriva agli sviluppatori questo qui è il pacco che arriva agli sviluppatori l'ho rubato come al solito ai nostri vicini di Vive Victis Games se vi interessa quello che stanno facendo i ragazzi c'è il link qui sotto io ogni volta vado di là quando arriva un pacco nuovo lo rubo e ve lo faccio vedere a voi così in anteprima e ci interessa vedere com'è impacchettato no e cosa viene fornito e quanto differisce questo nuovo diciamo Vive Pre dal vecchio Vive che vi ho mostrato mesi fa anche questo era uno dei primissimi unboxing italiani questo è il vecchio controller il nuovo è completamente differente questo è il vecchio Vive il nuovo è anch'esso molto differente quindi vedremo come differisce e come arriva agli sviluppatori e forse anche ai consumer quando verrà messo in vendita la scatola è gigantesca è questa qua non posso aprirla qui sul tavolo perché faccio un gran casino adesso la sposto un attimo e poi riporto sul tavolo la stessa cosa che ho fatto con il vecchio Vive che anch'esso aveva una scatola veramente enorme ci sono tre scatoloni giganti principali più un'altra roba a incastro che teneva poi fermo il resto che contiene solamente il diciamo gli attacchi per attaccare al muro i nuovi light house che sono quelle scatole che sparano laser verso di voi e vi diciamo traccano nell'ambiente in cui vi muovete cominciamo con questa scatola più piccola vediamo che cosa c'è dentro non sono questi packaging chiaramente definitivi consumer si vede che insomma non hanno diciamo l'aspetto proprio da roba venduta in negozi ma ancora da prototipo c'è questo primo pezzo vediamo ah ok questi sono i nuovi light house senz'altro sono diversi rispetto ai vecchi da quello che so questi nuovi finalmente sono wireless non sono più wired non devono essere collegati diciamo così al direttamente alla base del del Vive hanno dietro due attacchi da un quarto di pollice standard poi cos'altro vediamo una porta micro usb un jack un'alimentazione e un tasto di sync direi hanno anche sotto un'altra porta da un quarto di pollice e una gomma che gli permette di rimanere stabili sul tavolo i nuovi light house non vi faccio vedere i vecchi perché sono montati qui in studio a muro non riesco a smontarli comunque ripeto se andate a vedere il vecchio video del primo Vive vedrete che sono molto diversi rispetto a questi c'è poi questa seconda scatola che era sotto e secondo me sono i controller o forse il Vive lo scopriamo tra un secondo stesso tipo di imballaggio esatto sono i controller ci frega invece di vedere come è fatto il nuovo controller che è completamente differente rispetto al vecchio che adesso prendo allora questo era il vecchio controller se vi ricordate ne parlavo un po' male perché era evidentemente un super prototipo sembra quasi stampato in 3d sta roba e insomma la plastica è veramente di bassa qualità e anche i tasti invece il nuovo è super pro quindi HTC Vive Pre si vede qui HTC Vive Pre i tasti mi sembrano bene o mai gli stessi eccolo acceso direi che è un controller bluetooth o qualcosa di simile la batteria questa volta è integrata qui dietro c'è il cavo la porta micro sb che serve per ricaricarlo e immagino anche programmarlo sincronizzarlo eccetera i ricevitori laser vedete che sono nascosti come anche nel nuovo visore che vediamo tra poco rispetto al vecchio nel vecchio i controlli erano veramente a vista in questo caso invece sono nascosti dalla plastica guardate che belli che sono così rimane lo stesso controller superiore che funziona nella stessa maniera quindi può essere sia usato come trackpad sia è cliccabile su giù sinistra e destra rimane il grilletto sotto quindi funziona nella stessa maniera è analogico rimangono i tasti laterali sinistra e destra gli squeeze button qui sinistra e destra sono presenti anche in quello nuovo qua sinistra e destra la plastica è molto bella al tatto così bella satinata è tutto opaco è veramente super figo questo controller ha di base arriva con il suo laccetto già inserito e mi sembra molto comodo guardate che bello che è veramente super veneristico questo è il vecchio e questo è il nuovo cambia anche molto la disposizione dei ricevitori laser i sensori laser c'è questo buco centrale qui mentre invece prima c'era questa pseudo piramide a questo punto senza dubbio in questa ultima scatola ci sarà il visore del Vive andiamo a tirarlo fuori allora come avete visto c'era il visore nascosto dentro a un sacchetto di plastica che adesso metto via è già attaccato il famoso ombelico tra l'altro rispetto al vecchio vedo ora i cavi sono collegati e non si possono scollegare questa non la capisco secondo me era più comodo prima adesso vi faccio vedere anche il vecchio che ce l'ho qui a parte c'era un altro pezzo di cartone che tratteneva il diciamo la base station che collega l'ombelico del Vive con arriva qui e da qui si va al PC c'è anche scritto qui su questo adesivo vedete VR PC e poi vediamo che altro c'è in questa scatolina c'è la spugna di ricambio per il Vive non sto a tirarla fuori quindi questa spugna è una spugna di ricambio per la parte interna qui del Vive c'è un po' di cartaccia c'è un ennesimo alimentatore che servirà per questa control box cos'altro c'è come era nel vecchio un adesivo per collegare diciamo per esempio alla scrivania la control box il nome ufficiale è link box non control box c'è un panno va bene c'è un cavo HDMI che sarebbe per collegare la link box al PC e una prolunga USB e anche un paio di cuffie venivano date anche un paio di cuffie con questo Vive non venivano date con il vecchio non mi paiono di incredibile qualità ovviamente sono cuffie in ear non sto a tirarle fuori chi se ne frega ok mi sono apparecchiato per bene il nuovo Vive Pre e il vecchio Vive i controller li abbiamo già confrontati prima sono molto diciamo il nuovo controller è veramente molto differente rispetto al vecchio sia in termini di qualità dei materiali che come diciamo disposizioni dei sensori laser nella parte superiore si vede molto bene che questo è praticamente semi definitivo e molto probabilmente quello che verrà messo in medita sarà praticamente identico a questo e poi abbiamo i due visori Vive quindi abbiamo il vecchio Vive e il Vive Pre come nel controller il nuovo Vive Pre nasconde i ricevitori laser sotto a un sottilissimo strato di plastica e questo dà un effetto un po' meno diciamo hardcore rispetto al vecchio che era veramente incredibilmente insomma RAW a me piaceva tantissimo comunque questo effetto però era evidentemente un prototipo la grossissima novità del nuovo Vive Pre si poteva già intravedere secondo me nel vecchio che aveva questi due buchi qui chiusi che molto probabilmente vi avevo detto nel vecchio video servivano per ospitare delle camere frontali che poi non sono mai state montate questa fantomatica camera frontale arriva però nel nuovo modello del Vive eccola qua è una camera frontale che serve sia per diciamo aiutare il posizionamento di voi nello spazio della vostra testa ma addirittura aiuta mentre si utilizza il Vive con una modalità di realtà aumentata cioè fondamentalmente doppio cliccando uno dei tasti del controller viene aperta una finestra all'interno della della propria visione virtuale chiamiamola così viene aperta una finestra che mostra appunto cosa sta inquadrando la webcam e cioè l'ambiente in cui vi trovate e questo può aiutare moltissimo chiaramente sia per orientarsi quando non si sta giocando sia per attivare tutta una serie di funzionalità di realtà aumentata che possono essere molto interessanti e che si avvicinano un po' per esempio al prototipo di Microsoft di realtà aumentata e altri utilizzi sicuramente interessanti e che sicuramente mettono diciamo questo nuovo Vive su un altro livello rispetto alla concorrenza in particolare chiaramente a Oculus Rift al nuovo Oculus Rift per il resto vediamo che è tutto molto più fighetto e definito guardate che belli gli attacchi per gli elastici rispetto insomma al vecchio che era veramente super naked così raw cattivo e super prototipo invece questo nuovo è tutto quanto bello definito guardate che gli attacchi si muovono non capisco la scelta sinceramente di lasciare i cavi che escono direttamente dal visore e non hanno una vera e propria connessione quindi fondamentalmente devono sempre essere lasciati attaccati qui vediamo bene invece come nel vecchio si potessero staccare i cavi qui vediamo tutte quante le porte principali erano qui nella parte superiore quindi USB 2 USB 3 HDMI l'alimentazione eccetera nel nuovo Vive Pre invece i cavi escono direttamente dal visore chiaramente occupano molto meno spazio in questa maniera perché le porte insomma sono molto più piccole così facendo perché non sono vere e proprie porte ma il cavo entra direttamente dentro il visore a quel punto dico io tanto voleva fare un cavo unico però comunque sia così funziona vedete che i quattro cavi principali arrivano qui nella parte posteriore della testa e sfociano qui su adesso non sto srotolare tutto quanto se no mi si incasina il mondo comunque tutti questi connettori poi vanno a finire nella linkbox che vi ho mostrato prima vi mostro anche la parte interna chiamiamola così e ve la metto a confronto con il vecchio vediamo se riesco veramente fastidiosissimi questi cavi sempre attaccati e da quello che ho capito leggendo un po' le specifiche e le anteprime dal CES schermi e lenti sono identici tra i due modelli tra il vecchio e il nuovo è stato migliorato il punto di contatto tra le lenti e gli schermi questo dovrebbe offrire non una risoluzione migliore perché lo schermo è veramente lo stesso ma una definizione migliore una visione migliore delle immagini per il resto sono praticamente identici vedo anzi intravedo qui qui una parte in plastica semitrasparente che molto probabilmente nasconde un sensore un sensore di prossimità cosa che invece non era presente vedete nel vecchio non c'era nulla qui però sto improvvisando io immagino che sia un sensore di prossimità in modo tale che il visore si accorge quando lo indossate per il resto la parte qui inferiore è in silicone molto morbido lo vedete qui come si muove questa parte qui in spugne è veramente delicatissima e molto soffice deve essere veramente molto comoda è praticamente identica al vecchio e vi viene dato anche un ricambio l'avete visto prima dentro alla scatola e tutto l'elastico che vi gira attorno alla testa è molto più diciamo ergonomico rispetto alla vecchia versione vedete come segue il profilo ideale della testa quindi qui sopra e poi anche i lati è più strutturato e sicuramente trattiene meglio il cavo questo quarto cavo qui è una presa jack sicuramente per collegare le cuffie e quindi potete collegare le vostre cuffie o quelle cuffie bianche che vi ho mostrato prima che vi vengono fornite insieme gli altri tre cavi sono quelli standard classici che ormai di tutti i visori che vi ho mostrato e che finiscono sulla linkbox intermedia e sono l'alimentazione l'hdmi e l'usb3 e per il resto che dire confrontando i due modelli ricapitolando un po' quindi stessi schermi stessi lenti ma il nuovo vive pre ha un sistema migliore di collegamento tra gli schermi e le lenti questo dovrebbe dare una visione migliore grandissima novità la presenza della camera frontale sul nuovo vive pre cosa che non era presente nel vecchio prototipo anche se c'erano questi due buchi che lasciavano presagire l'arrivo di una webcam di una camera frontale molto più comodo da indossare rispetto al vecchio prototipo grazie all'ergonomicità delle fasce alla spugna un po' più grossa direi che a livello di peso siamo bene o male sullo stesso peso controller completamente rinnovato rispetto al vecchio che era veramente una roba stranissima evidentemente un super prototipo il nuovo si vede come è assolutamente semi definitivo e dai materiali è molto più pregiati ultima novità come vi dicevo prima i due nuovi lightbox che sono finalmente wireless che quindi comunicano appunto senza cavi direttamente al sensore cosa servono i lightbox semplicemente il nuovo il Vive è uno dei pochi sistemi VR che riesce a tracciarvi anche all'interno di una stanza quindi potete muovervi liberamente non siete obbligati a rimanere seduti davanti al computer come è per esempio per Oculus Rift potete alzarvi in piedi e muovervi nella stanza come fa a tracciarvi il sistema semplicemente questi due lightbox posizionati diciamo se il tavolo bianco che vedete è la stanza in cui vi trovate voi siete in mezzo questi due sono posizionati nei due angoli e sparano fondamentalmente laser verso di voi e verso il controller che avete in mano sia il controller che il visore ha questi ricevitori che si intravedono qui ora sono nascosti da una plastica super sottile ma nelle vecchie versioni erano molto più evidenti vedete che sono proprio sensori laser ricevitori laser sia sul controller che sul vecchio visore come erano super esposti per concludere alla fine nel nuovo Vive Pre vengono forniti quindi due controller due nuovi lightbox due nuovi controller chiaramente il nuovo visore l'abbiamo appena visto ha delle novità anche molto importanti come appunto la presenza della camera e altro non si sa ancora purtroppo il prezzo di listino che avrà quando uscirà diciamo il pubblico il prossimo aprile ma chiaramente pochissimo da quello che si è capito sicuramente non sarà economico chiaramente perché offre anche di più rispetto a Oculus Rift abbiamo visto che il Rift non è certo economico e HTC si è detta ben contenta che che Oculus abbia scelto un prezzo così alto quindi molto probabilmente anche lei avrà un prezzo alto se non anche più alto rispetto all'Oculus Rift per ora insomma tutto top secret la versione definitiva sarà a detta di HTC molto simile ma non identica a quello che vi ho appena mostrato che probabilmente ci stanno ancora lavorando mi viene da dire fondamentalmente questa è stata presentata come vi dicevo lo scorso gennaio quindi insomma un mese fa mentre la versione definitiva arriverà ad aprile tra un mese e mezzo o due manca veramente poco se vi piacciono i miei video di unboxing le mie esclusive fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di Incauto Unboxing ciao ragazzi grazie grazie